Voglio filmare il mio quartiere. Adesso ci addentriamo in questa atmosfera bolognese, di profonda periferia. Il semaforo che dura delle ore, non so se avete notato. Questo taglia la strada, si butta. Pub Black Bay. Ok? Sono stato qui vicino al bar, fra un po' vado a prendere il caffè con questi soldi. Voi come state? Come ve l'ha passata? Tutto a posto? Che aria tirano i vostri cervelli soprattutto? È un'aria pulita? Inquadriamo il locale. Un'operazione difficile di estrarre le chiavi. Ce l'abbiamo fatta. Non era così difficile. Che fisico. Bene, è uscito nelle nostre sale, a rivederci professore, con Johnny Depp. Un grande Johnny Depp. Il film l'ho recensito, troverete la mia recensione online finché esisterà internet, finché esisteranno questi siti che mi danno la possibilità di scrivere quello che penso. Io non sono vincolato editorialmente, anzi contrattualmente, per meglio dire, alle riviste di cinema per cui scrivo, per cui ricevo dei compensi naturalmente, ricevo dei vantaggi, come l'accredito al prossimo festival di Venezia e vengo inondato di libri, DVD e quant'altro per l'impegno da me profuso. Con ardimento. Ecco, non è un gran che, comunque, leggete la mia recensione, cercatela, digitate Stefano Falotico, recensione di Arrivederci Professore. Però, al di là della retorica, anche se il film, questo film di Wayne Roberts, vorrebbe essere tutto fuorché retorico, infatti la butta sulla Black Comedy, anche sul demenziale abort, Johnny Depp in alcune scene assomiglia a John Belushi, è assai simile questo film all'attimo fuggente, il messaggio di fondo, infatti, è identico. Ragazzi, carpe diem, non aspettate troppo. Ecco, io è quello che ho sempre sostenuto, io sono sempre stato ricattato per le mie scelte, io a 14-15 anni, mi ricordo a 13, forse 16, ma andai proprio a fare in culo il mondo, ma proprio non me ne fregava un cazzo delle istituzioni, perché la cultura, la nostra sanità mentale non passa attraverso questi requisiti formali, quindi probabilmente, io ancora non sono laureato, non mi laureerò mai, mai cosa mi devo laureare? In ingegneria, stare tutto il tempo a progettare case, per poi aspettare l'estate, per fare cosa l'estate, anziché appunto guardare questo film, uscito appunto in tempi oramai estivi, per andare a Mirabilandia, per fare un ritorno di regressione infantile alle gioie perdute di quando eravamo tutti i bambini, e we are the world, e le montagne russe, ma nella vita reale poi non c'è la montagna russa, ci sono le frustrazioni col marito, il marito deve essere uno di questi lavoratori, a cazzo duro, che da circa un mese vuole sapere se Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus, adesso che l'ha saputo Sarri, questo cafonazzo, quando anni fa, uno, due anni fa, tre anni fa, Sarri perse, praticamente, anche se non matematicamente lo scudetto, una giornalista, un po' pungente sicuramente, gli chiese, con questa sconfitta vi siete giocati lo scudetto, è una domanda retorica, perché infatti il Napoli perse lo scudetto, lo vince sempre la Juventus, e Sarri adesso è andata alla Juventus, quindi probabilmente vincerà qualcosa, questo essere burioso, arrogante, presuntuosissimo, è anche untuoso, unto e bisunto di Sarri, e sapete cosa rispose? Beh ti mando a fare in culo subito, trovatela questa sua risposta su Youtube, ma che modi sono? Che modi sono? E voi aspettate da un mese questa notizia, adesso è arrivata, e passate le vostre giornate a svolgere lavori di merda, lavori di merda, quindi il lavoro non dà la dignità sociale, il lavoro spesso è una maschera sociale, che ci permette, come sostiene Ken Loach, di facilitarci nei rapporti impersonali, non interpersonali, impersonali, perché sono rapporti impersonali, uno vuole conoscere una donna, una persona, va da lui, una delle prime domande che l'altro gli pone, ma tu cosa fai nella vita? Beh, se gli dice che è Presidente degli Stati Uniti, beh, sei una brava persona, oppure se gli dice, beh, ho lavorato otto ore in fabbrica, beh, forse non sarai acculturato, ma sei una brava persona, ma non è vero, non è vero, quindi io preferisco la mia libertà, ho anche scritto l'ultimo dei Romantici Libertini, un libro che ha ricevuto stroncature esagerate, d'altronde, cosa aspettarsi da questi recensori che magnificano, esaltano prodotti scadenti, come questi romance bollenti, bollenti si fa per dire, anche io ho scritto dei libri erotici, ne sto scrivendo un altro, ma i miei non sono libri erotici, sono libri romantici, che è una cosa diversa. Insomma, alla fine Johnny Depp, prima di morire, perché gli viene diagnosticato un cancro in questo film, si rivolge ai suoi ragazzi, i ragazzi più sfigati, i ragazzi più emarginati, i ragazzi già esclusi dalle compagnie sociali, frivole, cazzeggianti dei loro compagni, quello che ho sempre sostenuto io, quindi quando mi chiedete, ma tu cosa fai nella vita? Ma ce l'hai una vita tua? E questa è la mia vita, quella del pensatore libero, quello dello scrittore, quello del recensore cinematografico, e quella soprattutto dell'uomo libero. Io sono libero nella mente di pensare, di dire quello che voglio, mentre voi no, siete condizionati da una moglie, da una fidanzata che vi vuole a sua immagine e somiglianza, vi plasma, vi plagia e vi porta a teatro, non perché a lei veramente interessi il teatro, non capisci un cazzo di teatro, non ho mai capito un cazzo, il teatro l'ha studiato, sì, le tragedie di Eschilo, Esculapio, si chiama, se mai Esculapio, di cognome fai Esculapio, una a cui peraltro dedicai dei libri, sì, trovate i miei libri, per piacere, e poi urla, sbraita contro i suoi figli, allora cresci, 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 ma crescesse lei, questa racchia mai vista? È una racchia schifosa, andasse a vedere i peggiori figli, il dvd Allen, mi ha rotto proprio il cazzo, è molle da una sberla e l'ha scaravento per aria, io sono fatto così, non ve l'aspettavate e ve lo dovevate aspettare, il pugno, il pugno nello stomaco e anche da un'altra parte, sì, Johnny Depp dice c'è sempre tempo per mischiarsi alla folla, per essere il 98% delle persone che si piegano al sistema per paura di... ma perché ci si piega al sistema? Non tanto per condurre una vita migliore, forse economicamente migliore, ma mentalmente, spiritualmente, interiormente, no, per non essere esclusi dagli altri, ma questo processo di esclusione inizia già dai primi battiti adolescenziali, quando se non fumi, se non ti fai una canna, se non ti vesti in un certo modo, ti chiamano sfigato, io voglio essere sfigato a vita, io voglio essere il più sfigato di tutti, perché solo essendo il più sfigato di tutti posso avere il cazzo dentro, dentro il midollo spinale di questa vita puttana infame. Come si dice in questi casi, un film, ci ricolleghiamo al film, la recensione di questo, dagli intenti nobili e mirabili, già mai miserabili, ma io adoro i miserabili di Vittorio Hugo, ma che a livello qualitativo non poco ha difettato nei risultati. Film, come detto da me, ovviamente già visto, recensito, altrimenti che cinefilo sarei, mica sono un cinofilo come la russa. Sapete che Nicolas Cage, vabbè, Nicolas Cage è stato spesso invece un attore cane, che durante, potete leggere tutto il pezzo, lo trovate online, se mai metto il link nella descrizione, link, link, leak, e Luke, Lucky Luke, ma anche il ghiacciolo, il ghiacciolo Luke è buono da leccare, vero donne voi che leccate qualcos'altro, il gelato crema e nocciola, 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 nocciola. Io sono misogino, va bene? Lo posso dire platalmente, lo so che mi emarginerete ancora di più, me lo penso, il 90%, anzi il 98%, come sostiene Johnny Depp, delle donne sono delle zoccole, delle troie, come sua moglie nel film. Cioè, stanno con uno perché se mai lo conoscono e parla di semantica, se mai lo conoscono e parla di semantica, è affascinante, ha un ruolo cattedratico all'interno di questa società e guadagna bene, quindi le permette uno stile di vita agiato e quando lei si è adagiata lascia che l'amante lo adagi, non tanto piano, anche con tre testicoli, come si vede in questo film, alla sua figa lasciva e bagnata. Vabbè, Cage però, sì, consegnò uno dei primi ruoli importanti a Johnny Depp, mi ricordo quale fu, 21 Jump Street o Nightmare dal profondo della notte, non lo so. Comunque, la vita di molti adolescenti per colpa di adulti, ignoranti, diventa un inferno, come lo è stata la mia. Mi dicevano che ero come ovo sodo, magari, quel Gabriellini lì con Claudio Pandolfi, e c'è quella scena di sesso quando lei lo abbinghia con quelle cosce stupefacenti, quelle caviglie meravigliose e lui, sempre più ardente, spinge appunto dentro, irrefrenabilmente. Va bene, però il signor Cage è stato il rastro di selvaggio in Cotton Club e soprattutto Peggy Susso si è sposata, che è un film sui rimpianti, anche sull'adolescenza, che è anche questo recensito, naturalmente io recensisco tutto, tranne me stesso, io non mi recensisco perché non ho bisogno, essendo l'uomo più bello e più bravo del mondo. Sono fatto così, va bene, se non ti sto bene e non ti attieni alle mie regole, non vieni in casa mia a dare le tue regole fasciste, non mi spieghi come si sta al mondo, se no ti prendo l'uccello e te lo ficco in bocca. Ecco, i suddetti tre film pare che siano firmati dal regista del padrino, il patrino, ecco appunto, il patrino, eh? E di Apocalypse Now. Vorrebbe signor Peggy obiettare in merito la veridicità, la veridicità di questa mia affermazione? Detto ciò, tralasciando nepotismi e leccate di culo, spinterei le raccomandazioni. John Depp, la simbolizzazione incarnata del bellissimo sognatore per Antonomasia, ultimamente ha perso parecchi colpi, ma è stata tutta colpa di quella baldracca che si era sposato, Amber Heard, Heard con cui voleva essere Heard, è una donna che ti rende ardente appunto, e le diede troppe botte e fu accusato da lei di essere stato con lei manesco e la riempiva di botte, ma in che senso, scusi, in che seno? Vabbè, donna sei figa, Amber, Amber, c'era anche Amber Smith, ah, quante segue su quella puttanazza, donna sei figa e slanciata ma artisticamente poco elevata, che c'è un'idea che con le sue infame, le sue denunce smodate, forse un po' ha rovinato, forse un po' del tutto, ci vorranno anni per smaltire questa botta, eh sì, come diceva Al Pacino di Hit, ci sei voluto entrare, ci sei rimasto, ah ah, detto ciò, tralasciando, no, questo l'abbiamo già detto, dovete sapere che per un tempo è immemorabile, per tempo, per un tempo, mi dissociare dai miei coetanei, questo l'ho già detto ma lo ripeto, repetita Juva, ma altro che repetita con le notizie da Juventus, in quanto già oltre il comune volgo adolescenziale di questi pubescenti starnazzanti, a Bologna, città che mi diedi Natali, calci nelle palle si scuipedali, e dove mi innamorai, anche se solo per tre secondi netti, no, quelli erano i 30 secondi, quelli di Bob De Niro, insomma, questo Pacino, in Hit la sfida, vuole dare delle regole di vita a De Niro, che è un uomo solitario come me, ma non è solo, io ho qualche amico, qualche amica, sì, ammiccando, ammiccando, si va ficcando, vuole dare delle regole, e De Niro, a costo di andare incontro alla morte, come sto andando io, il mio è un suicidio da Snuff Movie, da The Brave, il coraggioso, con Johnny Depp, non me ne frega niente, è chiaro? Non me ne frega un cazzo di quello che pensate di me, anzi, più pensate cose malvagie, cattive, e più mi calunniate, e più io ve le suono, ve le suono come Gio Pesci, finirò male, povero in canna, sempre meglio che ridurmi come voi, che andate dai vostri amici, vi chiedono come va con vostra moglie, benissimo, ieri mi ha tradito con un negro, lo so io, lo sa lei, io comunque non ho da discolparmi, perché mentre lei mi tradiva con un negro, io sono stato con una negra, ecco, oppure vi riducete a lagnarvi dalla mattina alla sera, o a passare le giornate stravaccate sul divano come Homer Simpson, a guardare la Juventus, e visto che ora, no, fra poco giocherà con le amichevoli la Juventus, visto che comunque il campionato è finito, passato il tempo ad ascoltare il calcio a mercato e le notizie sul prossimo campionato, vabbè, e il vostro campionato invece? Il campionato della vostra anima? Ecco, diceva, Bologna città che mi diede di Natale i calci nel palo e si scupi e dalle, oh, mi manorai anche solo per tre secondi di Natale e la fioraia, buona, eh? Quelli della mia generazione, un bel rosellino, «Rosa e rosse per te, e con te divendo rosso, tutta viola, sì sì». Dopo settimane di compiti a casa prescritti loro da insegnanti boriosi, barbosi, accademicamente noiosi e soprattutto ipocriti, anche questo Johnny Depp è un accademico, sì sì, accademico, eh sì, però è anche all'avanguardia, sì sì, andavano a gozzovigliare al pub Estragon, Estragon. Dunque, dopo sei giorni feriali di castigli scolastici, a cui doverosamente si erano attenuti da fighetti ligi, canne permettendo la musica di MTV a distrarli dal dolore insopprimibile di sapere inconsciamente che non avrebbero mai avuto le cosce una notte con Alice Morissette, per Aldo una donna androgea tutt'emossette, dopo aver accontentato a bravi figli di papà e mamma, «Aho, a cresci, non sta con mamma e papà, ma da la specchi mi dai i soldi, oh, mi dai tu i soldi, a zoccolo, a zoccolo!» I precetti educativi dettati loro dalla genitorialità più pedagogicamente ruffiana si precipitavano nell'estragon suddetto per sabati sera sudati. Si può dire sabati? Si può dire. Invece Johnny Depp si concede un anno sabatico, sì, questo lo dice lui, per coprire il suo malessere, la sua malattia. Scalmanandosi nei bagni scalcinati fra zampilli, zampilli, zampilli di birra scaduta e lingue copulanti in accoppiamenti perfino provisqui in mezzo a tutta la folle mischia. Ah, e poi oggi come oggi si fanno le seghe su Brooks Mischa, eh, grande pornatrice a un culo, godendo da mattina il putiferio di Vodke Lisce e della cantante Gestor della serata Masha, la bauscia. Ah, esaltata di Milano, scesa a Bologna per tirarsela da Annie Lennox. A me fu fatto credere di essere Johnny Depp di Edward Money, di Forbes, c'è Scherz Rans. Ah, sì, 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 i fricchettoni, ma mica dei personaggi come i friccantoni, eh, sì, sì, amavano da morire e maltrattarmi da friccmonco, eh, sì, mi proibivano subito di voler toccare ragazzi gnocchi come Winona Ryder, ma ora sono io a guardare Stranger Things, in questo personalissimo Back to the Future, e ritorno al futuro a recarmi nei pressi del maialino di tono, gridandogli, Ehi tu porco, levale le mani di dosso. Anche il bull zurro esce dalla macchina e spera di suonarmele. Eh, sì, io gli dico, dai, prima suona il clazzo, tu stai sognando, idiota, tu dai ordini a me, ma mi hai visto bene, io ora ti smonto, siamo sicuri di questo? Non posso dirvi chi l'abbia presa fra me e lui sicuramente, lui non l'ha presa, in culo sì però, e me la sono montata io, non lo so, non mi riferisco alla testa, fui oggettivamente pazzo, ma lo sono ancora, e io voglio esserlo, voglio essere il più pazzo, voglio essere il Joker, marino fra l'altro, Don Juan, Don Juan de Marco, che se credo Don Giovanni, poi c'è anche il pornatore Don John, eh sì, quello, eh sì, sì, Alde che Don Johnson, Don, 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 Don è molto più amante di Don Johnson, che stava con Melanie Griffith, che adesso sta con Banderas, è tutto, tutto, mamma mia, Alde che beautiful, ma mi salvai dal manicomio salvando gli psichiatri, sì, da cui ora ho ricevuto perfino l'incomio, ma l'ho detto, quando sei bravo? Ma allora, tu non soffri di niente, siamo noi che soffriamo di qualcosa, sì, una situazione, diciamo, c'è la tragicomica, dinanzi a me questi strisza cervelli, e anche strisza uccelli, perché ti danno dei farmaci che non te lo fanno tirare, aveva ragione Jack Nicholson, in qualcuno volò sul nido del culo, del cuculo, quando disse, se non mi ricordo male, beh, io non voglio prendere niente che me lo renda moscio, qualcosa del genere, lo voglio tosto, 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 eh sì, 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 e con lei far l'amore come se fosse della mozzarella, filante nel toast, di questi strisza cervelli comprensero e avrei sbagliato tutto, anziché perdere tempo a motivare i loro pazienti facilmente suggestionabili, sì, 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 questi pazienti, abbiate pazienza, sono suggestionabili, innanzitutto sono loro che si rivolgono, sono loro che si rivolgono agli psichiatri, vanno lì e dicono, beh, io sto male, lo psichiatra cosa può dire? Beh, allora, continui a stare male, io la suggestionerò, le farò credere di soffrire di qualche patologia, le prende alla medicina, e poi, visto che è depresso a morte, visto che soprattutto lei donna non viene, ecco, ci siamo capiti, legga Novella 2000 e si faccia i cazzi degli altri. Invece di rincoglionistico con le fredde teorie freudiane sull'Eros, rimpiansero di non essere stati come Ramazzotti, no, come Mickey Rourke di Barfly. Ah, è troppo tardi adesso, la vostra fight and away, dai dai, ora scambia Warren Beatty per Marlon Brando, non mi riferisco a La La Land, gli Oscar, sappiamo, fei, fai, 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 ancora te li fai, 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 Marlon è morto, e lei risponde, anche Warren, non lo vedo benissimo, diciamo, sul giovanissimo, brava, andata del tutto, non lo sei. Sì, fai, fai riesce sempre a non farsi internare, perché nonostante la demenza senile, oramai galoppante, più di come negli anni 70 faceva cowgirl, in tanti letti e divani ruvidi, è strafottente, sessualmente strafottente, rimane una donna dal fascino speratoso, sempre eterno, anche se nessun uomo oggi come oggi vorrebbe entrerci dentro, scusi, di me invece chi si può dire? Sono Gene Depp, The Finding Nevela, infatti io non trovo niente, non trovo niente, io sono, man mano paragonata al cattivo tenente, io sono il cattivo nulla tenente, ma sono un buono paravolta nulla tenente, in sogno per domani, sì sì, aspettando domani, non si vive il presente, faccio leggere le prime pagine dei miei libri, dal mio editore, dice che sono delle stronzate, poi si ricrede, capolavoro, grida, capolavoro quando la mia vita ormai è finita, e lui per finire di leggere questo libro, ci ha messo 30 anni, e ormai, ormai, e ormai è andata, insomma la vita è una sola, spesso una sola, spesso ancora sono solo, ma fuori oggi sei il sole, oh sole, mi sta in fronte a te, ma tu ti fai le seghe, guarda io sono sposata, sì, e crescerai due figli drogate a 13 anni, sapete che vi dico, andate a fare il culo, andate a fare il culo, io continuo a vivere così, presto pubblicherò un altro libro, con una figa se scopedale, bestiale, in copertina, se non vi sta bene, io le copertine, non ve le, non le coperte, non ve le rimbocco, siete stati scoperti, siete dei malfattori, mi avete calunniato per anni, e a me non frega un cazzo, sbattervi in faccia la verità, e sbattervi anche qualcos'altro, ciao, arrivederci, grazie.